Benvenuti al ristorante Ieti di Pila, mi trovo qua perché questa è casa mia, siete quindi benvenuti, sono Katia e sono la proprietaria del ristorante Ieti da ormai tre anni, infatti sono la seconda generazione dopo mio padre che ce l'ha avuto esattamente da 30 anni dalla mia età. Ha firmato il 29 aprile 90 e il 30 aprile sono nata io. Questa cosa si ripercuote e torna, infatti quando io ho preso lo Ieti è nata la mia prima bambina e adesso ho un nuovo progetto in testa e quando è nata la mia seconda bambina sto aprendo il mio secondo ristorante. Questo per rifiorire, per ripartire tutti insieme come rappresenta anche la mia collana e spero che riferisca tutta la Valle d'Aosta insieme a noi.